17 anni dopo aver scelto palmi come sede del nuovo ospedale della piana di gioia tauro è arrivato l'annuncio della consegna del progetto definitivo tempi lunghi anzi lunghissimi per un'opera agognata da un territorio bersagliato da anni di tagli indiscriminati al sistema sanitario un annuncio che giunge con circa 10 anni di ritardo sulla tabella di marcia tra la scelta del sito e la consegna del progetto definitivo si è assistito al peggio che la burocrazia statale possa offrire è una notizia importante per i cittadini non solo di palmi ma della piana intera è chiaro che nulla ancora è definito è però è uno step importante seguirà nelle prossime settimane un primo esame del progetto appunto effettuato da parte della regione calabria poi si avvierà nel mese di novembre metà fine novembre la conferenza dei servizi a cui poi seguirà il progetto esecutivo è finalmente la posa della prima pietra con l'avvio della fase di canterizzazione l'amministrazione comunale annuncia l'intenzione di continuare a vigilare mentre 180 mila abitanti attendono con il fiato sospeso sperando che non si vada incontro a nuovi stop e che non servono altri 17 anni prima dell'inizio della costruzione dell'opera è un passo importante che attendevamo ma è solo uno dei vari delle varie condizioni che devono innescarsi e materializzarsi perché finalmente di qui a breve questo benedetto e tanto atteso ospedale possa trovare finalmente luce francesca altomonte per la cnews 24